Ciao ragazze, nuovo video haul vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto ieri con la mia amica Chiara, siamo state a Orio a Curno, dai cinesini cioè abbiamo fatto un giro bellissimo e siamo stati insieme tutti, santo giorno è stato bellissimo e abbiamo fatto tantissimo shopping, proprio ci siamo consolate e date alla pazza gioia vi faccio vedere gli acquisti e un pochino l'outfit, indosso la gondellina questa, spero che non si sia viste le mutande comunque ho preso la mancata di 4 euro insieme in velluto, cioè in velluto con tutti questi colori che mi piacciono tantissimo dolce vita, collo alto, maglioncino bello caldo, lavorato, questa bellissima spilla che ho preso da Stella Z così come segno, mi piace perle calza ricamata, questa qua che ho preso nel negozio dove lavorava mia sorella e come scarpe queste bellissime stivali a Z che ho preso da non mi ricordo come si chiama, arancia meccanica no oh mio dio, arancia meccanica al negozio comunque sono queste bellissime zeppe finissime, vi faccio vedere ecco si vede sia la calza che la gonna con la sua fantasia e queste bellissime zeppe tutte in camoscio che avevo pagato tipo, mi ricordo, forse 25 euro le ho fatte vedere in qualche precedente video nei mercatini erano nuove proprio dal negozio perché era l'ultimo numero rimasto che sono un pochino più lunghe così sul lato e più corte di qua e sotto ai calzettoni perché al lavoro abbiamo freddissimo e questo è l'outfit completo